Ciao a tutti Kugge e benvenuti alla vostra Andrea di Contuno su Pokémon Ultra Sole Oggi sfideremo gli altri due Super 4 che ci sono rimasti e poi domani il campione di Allola Vedremo se sarà Howe o se sarà un'altra volta Kukui, boh vedremo chi sarà Ad ogni modo adesso andiamo ad affrontare Alixia come primo per oggi Eccola qua, già è pronta Benvenuto della mia sala, come puoi intuire il protagonista è tipo roccia Va bene, sono lieto che sia tipo roccia Non c'è bisogno di presentazioni, vero? No, non ce n'è bisogno Alixia Uh, è seria Ok, ok, ok Mmm, Armaldo Andiamo con Breccia, partiamo con una cosa un pochino leggera Tritartigli fa male Si è fatto da un Pokémon di tipo normale Picchia duro E vi spiego anche il perché Magari fa pochi danni Magari fa pochi danni Però almeno non lo porto a vita rossa O almeno spero Perfetto Perfetto Tritartigli mi ha ridotto la difesa ma posso ancora prenderne altri due Dannazione ricarica totale Allora mi toccherà andare con Zuffa Devo farlo fuori assolutamente Zuffa conto su di te Va bene Posso prenderlo questo Eh, ma non posso più prenderne Anche lo ricarico Mi manda KO Grande Grande Grandissimo Armaldo Credeli Eh, credeli sì Credeli devo cambiarlo Per forza Oddio Vado con Il poterizzato di Leopop Eh, sì Dai, devo farlo fuori assolutamente Credeli è molto resistente Molto, molto Oh, non ce l'ha fatta Eh, la velocità Una in più Una in meno Di velocità Non è che fa tanto Ah Vediamo quanto effimero Quanto toglie Neanche metà vita Eh, infatti Infatti Idropompa Levito roccia Al secondo turno La metti Che problemi hai? Tanto effimero Vai Energy palla Noo Come ha resistito Mamma mia Gigalith cambio Mando pizza Oddio Mando pizza Stavo facendo Crollare tutto quanto Domando come Come esca Perché se no Non posso Eh, sabbia e fiume Ci mancava questa Ci mancava Boh non si ferma più Eh, pietrataglio Ora Precisione massima C'ha in mezzo Alla tempesta Di sabbia Se non vado Errato A vigore Quindi andare Con zuffa Sarebbe Alquanto inutile Andiamo con breccia E poi magari Oddio Battiterra Ah, tutto qui Pensavo Molto di più Va bene Se mi fa Un altro Battiterra Ah no, no Sono più veloce Allora niente Eccola Ora zuffa ci voleva Perché una breccia Non avrebbe Non avrebbe Mandato KO Quindi Meglio così Oh, 58 Vai Oh, l'attacco Onisestre Davvero bello alto Propas Propas Rimango Vado lì Zuffa anche su Propas Tanto oramai Monkey È finito Per la seconda volta Poverino Ah, non c'è più Zuffa Bene Breccia allora Non pensavo Che breccia Togliesse così Tanto Mi ha paralizzato Oh Probopass Tu non sai cosa ho fatto io Ho comprato 99 Ricarica totale Nonostante ne avessi Già alcune Eviglia Vita massima E Senza paralisi C'è forza Ma non è molto efficace Dato che sono tipo Lotta Ah, sabbia fiume ha fatto Ci sarà tempesta di sabbia? Ah Pensavo cose tipo Piovischio Va bene O siccità dicevo Va bene Piovischio di Gragon Di Chiogre Merda Va bene Piovischio di Chiogre E siccità di Graudon Dovrebbero durare In eterno Mi sembra Fino a che non finisce la lotta Manda Manda Licarrock No, continua a lottare È più veloce Licarrock Ma Non mi fa paura Forma mezzanotte È tosto È tosto È tosto È infatti Però brutto colpo addirittura Eh Attenzione Ha resistito anche a brutto colpo È davvero tostino Eh Manda il mio Di Licarrock Volete fare Conoscenza No Va bene Sgranocchio Allora Sgranocchiamoci un po' Questo lì Licarrock Mezzanotte E via Anche questa contro l'X È fatta Nota dei cambiamenti Dal nostro incontro D'Akala Hai acquisito molta esperienza Grazie al tuo giro Delle isole Bene Vai e fatti onore Anche con il prossimo Avversario Lo farò l'X Lo farò Grazie del consiglio Ok L'ultimo avversario Di Super 4 È il tipo volante Kai 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 Li Dovrebbe chiamarsi Entriamo Entriamo Ecco Appena potete Andate a prenderlo Perché si può Alola Sono la grande Kaili Anche io ho conquistato Il titolo di campionessa Della gira Delle isole Alcuni anni fa Dopodiché Ho iniziato a girare Il mondo Per perfezionare La mia abilità Nel golf E nelle lotte Quando ho sentito Che anche qui Di aver stato fondato Una lega pokemon Sono tornata di corsa Da lola Ora preparati Ti mostrerò Tutta la potenza Dei miei figli pokemon Di tipo volante Breviary Oh Un pokemon migliore Non poteva sceglierlo Per iniziare Raccio A tomba E uno se ne va Brutto colpo Non mi ha aiutato Ah lucia Oddio tipo lotta Potrebbe darmi Un problemino Ma Nah non credo Vediamo un po' Vai Evita l'attacco Slyla grande Eh si Normale Però Nah Accidenti Non voglio andare Già di potere Z Cambio pokemon E' semplice Mando sacro Schiacciatuffo Eh vabbè Perché sono tipo volante In parte Se no Attacco Di alla Ah Pessimo tempismo Per cambiare pokemon Vabbè Volevo riuscire Come si a salvarlo Dai Eh Datemela Per buona Ok Giù è andato Sì Così si fa Eh vedi Sale anche Slyla Ah Mandibuzz Cambio pokemon Mandiamo appunto Slyla Facciamo tornare Slyla Dunque Mandibuzz Buio volante Se non erro Molto interessante Come pokemon Bellissimo Il design Da pokemon Preistorico Mi piace un sacco Come pokemon Sembra un banalissimo Avvoltoio In realtà E' Preistorico Che poi Io sono Un Un idiota Ma un idiota Ha fatto adulazione E allora Mi sa che qua Tu sei proprio Tondo Sei Io sono più veloce Di te Perché non Non lo capiscono Oddio però Adulazione aumenta L'attacco Fa un po' vedere Perché sennò Vado di pedrataglio Vediamo un po' Attacco speciale Allora Ah no Ha preso il contraccolpo Da baldeali Racciotomba Sperando che non missi Grande Non è servito A un bene Amato Piff Però Allora Adesso andrà Con ricarica Totale Quindi io Che faccio Ricarica Totale Anche io Però mi sa Che è misso Io Misso Pietrataglio Ci scommetto Ah ci scommetto E vai Che bello Che bello Quando mi sbaglio C'è Per queste cose Dico Rocciotomba Grande Uh È andata È andata Tu che è? No 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 Tu che è Non rimango Pietrataglio Connette Mamma mia Che roba E l'ultimo Allora Oricorio Eh no Eh no Caro mio Rimango con Slayla E Oricorio Si becca Un attacco Che mamma mia La potenza Ho visto che Dlarz ha avuto problemi Con le sue Tempeste radiale Ha avuto problemi Di copyright Spero di non averceli Anch'io Stavolta Perché io Già l'ho fatta Ma nessun problema È merato Boh Vediamo come va Oppure la taglio Direttamente Non lo so Poi vedremo Vedrete voi Ottimo È dura Ammettere Per un membro Di super 4 Ma Tu e la tua squadra Siete davvero forti Grazie Tu Hai portato un nuovo vento Da Lola All'inizio non ero Molto convinto Del limite Del professor Kukui Ma ora sono felice Di aver accettato Mi sto chiedendo No Mettiamo che ci sia Aow Come campione No Mettiamo caso Mettiamo che caso Che lo spoiler Era vero Sì Sempre ritornando Al discorso Dello spoiler Che mi sono spoilerato Male forse Chi lo sa Hanno detto Le stesse cose Ad Aow Anche Kukui non c'è più Quindi Kukui Domani Si va ad affrontare Il campione Kukui Kukui Hau Non lo so Chi si va ad affrontare Anche perché Hau Non l'abbiamo affrontato Quindi Sarebbe giusto Che sia lui Il campione Ad ogni modo Lo scopriremo domani Io come sempre Vi ringrazio per aver seguito Anche questo video Che spero vi sia piaciuto In descrizione Come sempre Link per Twitter Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Bye bye Ciao